eccoci qua salve a tutti oggi andiamo a fare un video su un prodottino che già avevo anticipato su instagram che è questo qui questo è un prodottino che produce la c power è una ditta che fa prodotti con un giusto compromesso qualità prezzo per fare un regalo è ottimo strizziamo l'occhio al passato vi faccio vedere perché perché questo qui è un giradischi eccolo qua poi andiamo a vedere insieme strizza l'occhio al passato perché possiamo ascoltare i vinili che non sono strumenti di ascolto musica insomma che sono nati ieri però nello stesso tempo ci troviamo l'aggiunta di un po di tecnologia moderna è portatile con la valigetta e ora vi faccio vedere qualche dettaglio in più per farvi capire il prodotto quello che è e quello che ci dà allora come vi dicevo intanto una cosa fatta bene che ha è questa questo ammortizzatore qua vedete quindi questo qui ammortizza quindi aiuta a non far dare urti al al vinile e la puntina quando gira poi abbiamo il blocca e sblocca vedete questo a blocchiamo sblocchiamo il braccio tino una volta sbloccato il braccio tino possiamo portare avanti adesso lo appoggio tanto c'è il copritestina quindi non si rovina possiamo appoggiare la testina sul vinile per fargli leggere la traccia lo possiamo fare manualmente così oppure possiamo alzarlo con questa levina qui vedete eccolo qua e questa la possiamo usare anche quando ascoltiamo il cd e il vinile e poi lo trasportiamo così vedete quindi questo serve per mantenere il braccio tino alto poi vi dicevo perché uno uno strizza l'occhio questo oggettino al moderno perché allora innanzitutto ha un'alimentazione vi faccio vedere come un con un jack eccolo qui vedete eccolo qui quindi a una una alimentazione con il jack e il trasformatore che viene dato in dotazione nella parte dietro vi faccio vedere oltre all'alimentazione troviamo qui va l'alimentazione così lo faccio vedere acceso dopo qui abbiamo l'uscita audio un'altra uscita audio quella là che ha jack jack quindi eccolo qui quindi e lei in dotazione allora nella parte frontale abbiamo questo che è per accendere vedete io l'ho acceso quindi accendere e spengere da qui e il volume e qui abbiamo anche le cuffiettine quindi possiamo anche sentirlo con le cuffie nella parte frontale invece abbiamo queste due qui queste due retine qui il metallo eccole qui che sono due altoparlanti quindi lo possiamo anche ascoltare direttamente con la custodia sono degli altoparlanti insomma di bassa qualità non danno questo bel suono però insomma se uno vuole ascoltarlo a volume medio basso lo può fare tranquillamente da da queste casse altrimenti con i jack dietro possiamo attaccare qualsiasi impianto stereo qualsiasi cassa amplificata è anche il bluetooth quindi queste casse anche se sono di una qualità non eccelsa le possiamo usare eventualmente per collegarci un cellulare quindi ascoltare la musica ad esempio di amazon music direttamente su queste casse collegando il bluetooth del giradischi e ascoltarle da quello che abbiamo sul cellulare che se poi abbiamo collegato un audio buono con i jack dietro al a un impianto possiamo ascoltarlo anche in ottima ottima qualità e la regolazione qui abbiamo questa levettina qui che con questa levettina qui possiamo decidere il tipo di vinile che andiamo ad ascoltare quindi aumentano e diminuiscono la velocità dei giri abbiamo il 33 giri il 45 giri e il 78 giri quindi con questa levettina muovendo questa levettina andiamo ad aumentare o diminuire la velocità del giro piatto in base alla grandezza del vinile che andiamo a mettere allora preso un vinile eccolo qui pure questo sempre moderno è prima non erano così blu trasparenti tutti i fighetti ma erano insomma un po più tutti neri poi faccio un vinile originale vecchio allora qui possiamo appoggiare vedete il piatto qui eccolo qui a mi dimenticavo c'è un pezzo che io non utilizzo perché serve praticamente poco a niente che è questo qui vedete questo qui è un blocca per bloccare il vinile quindi lo appoggiamo qui ma onestamente la funzione che ha servono a poco a niente perché già sta in posizione fermo in orizzontale quindi non è che dice è un sistema inclinato e quindi serve che lo blocchiamo bene comunque vi faccio vedere allora sblocco il braccetto e alzo il braccetto levo il tappetto della puntina perché sennò rischiamo di rovinarla vado ad accendere vedete lui parte adesso sta girando però a allora vado a mettere a 33 giri che già c'è quello giusto e vado a tenere questa parte qui allora potrei o fare così e mando giù con la levettina questa qui dietro oppure possiamo tranquillamente andare a prenderlo senza usare la levettina e metterlo a mano sentite io voglio rubare la libertà perché me la son vista portare via regalare alla mia gente verità allora spengo se no poi youtube copyright e mi crea problemi comunque avete visto si sente bene è un prodottino carino a un prezzo veramente buono per fare un regalo è ideale e niente l'unica cosa che volevo farvi vedere se ci riesco è il sotto della puntina aspettate allora guardate vi faccio vedere se riesco questa è la puntina è minuscola è giusto per un fatto di curiosità insomma riabbassiamo ecco qui allora come vi dicevo adesso i più giovani mi prenderanno un po in giro però va bene così ulio iglesias questo è un vinile originale vecchio vi faccio vedere come erano avete visto quello tutto figo un po trasparente colorato questi eccoli qui sono i vinili originali eccoli qua mettiamo pure questo così vi faccio vedere con il posizionamento manuale senza usare il braccio tino eccolo qua allora questo è un po il tutto il prodotto è un ottimo prodotto se lo state già utilizzando l'avete già acquistato fatemi sapere come siete trovati se avete qualche dubbio ho bisogno di qualche chiarimento lasciatemi un commento sotto vi rispondo volentieri e nel link della descrizione del video vi lascio anche il link del prodotto per acquistarlo su amazon